Dr. Gianni si porta in vantaggio seguito da Torsida, mentre all'esterno si propone Agastage, che gradatamente si porta ai fianchi del leader per poi superarlo e all'imbocco della curva passare al comando. Poi Dr. Gianni con a ridosso Torsida, mentre a qualche lunghezza segue Papaloca. Cavalli ora lungo la curva con Agastas che figura in leggero vantaggio nei confronti di Dr. Gianni e Torsida, più indietro Papaloca. Siamo in retta di arrivo con Agastas all'ostecato, Dr. Gianni e Torsida al suo esterno, più indietro Papaloca. Siamo a 450 dal palo con Dr. Gianni che è passato in vantaggio, tallonato da Torsida. Dietro i due rimane Agastas e più indietro Papaloca. Siamo a 300 dal palo, Dr. Gianni ha preso un leggero vantaggio all'ostecato nei confronti di Torsida. Nel tratto conclusivo non ha problemi Dr. Gianni, mentre Torsida controlla il secondo posto davanti a Papaloca e Agastas. Rivediamo le immagini finali con Carletto Fiocchi in sella, Dr. Gianni, Salvatore Saggiomo, il trainer numero due dello schieramento, al posto d'onore il quattro Torsida, quindi due e quattro il probabile ed ufficioso arrivo della prima... Grazie a tutti!